A margine delle sessioni del vertice BRICS a Kazan, il presidente Vladimir Putin ha condotto incontri e negoziati bilaterali con 17 leader mondiali tra cui il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, la presidente della Banca per lo Sviluppo dei BRICS, Dilma Rousseff, il primo ministro dell'India, Narendra Modi, il presidente di Sudafrica, Cyril Ramaphosa, il presidente della Cina, Xi Jinping, il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah el-Sisi, il presidente dell'Iran, Masoud Petzeshkian, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, il presidente della Turchia, Tayyip Erdogan, il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, il presidente di Laos, Tonglun Sisulit, il presidente dell'autorità palestinese, Mahmoud Abbas, il presidente di Mauritania, Mohammed Al-Ghazouani, il presidente di Bolivia, Luis Alberto Arze, e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.